sono normale bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono on stage tv e chi l'avrebbe mai detto che sono on stage tv ragazzi mi trovo qui per per chiarire delle cose no non è un video di chiedersi qui per chiedere una cosa ragazza la vita quando ha aperto il canale no un annetto fa circa non penso che mi sono basato su tutte le cose cioè io la prima cosa che mi veniva in mente la montavo e le ritavo vedevo la stessa cosa e poi la mettevo su youtube ragazzi adesso io voglio visto che adesso c'è un certo numero di scrittime dicendo è stata quindi almeno in 3 4 mi possono rispondere ragazzi chiedo una cosa ragazzi cosa volete che io porti sul canale volete che io porti gameplay giochi la eteria ad esempio e cose mai oppure volete che porti quello che sto facendo adesso con un pochettino di clash royale poi che ne so i blog che faccio il verde oppure volete soltanto che io porti dei blog così come sto facendo adesso ragazzi perché veramente ci tempo perché alla fine voglio capire che oppure volete che continui così come appunto ho detto ragazzi non so che dire perché perché boh non lo so come state ragazzi in una favola vedete lo rifacciamo dove sto guardando io direi di sì adoro sta canzone quindi non so che fa ok ragazzi io spero che questo mini video vi sia piaciuto da home stage di vuoi tutto e dalla mia coscienza perché è ritornata chi mi segue da tanto tempo è ritornata ragazzi la mia coscienza ciao ragazzi sono tornato insomma sono on stage tv versione 2 sono andato a coscienza se vi ricordo mi sono presentato in estate così io mi ritrovo qua e un'altra volta arriva a metro ma i grandi visi che ho fatto e soffitto non cagarmi il cazzo citto da un seguito tutto belli di farla via